che stai facendo? vai che stai facendo? vai ma che stai facendo? vai che ragazzi queste ragazze? e si grazie Che stai a fare? Sì Hai! Ma che stai? Dai, andiamo! Non c'è parola da più Perché ha visto proprio un piccolo piccolo Ma no, secondo me tu lo vede tipo un peluche Dissolo piccoli Eh, è tutto strano E' lui che ha paura Adesso